salve bentornati sono gabry costa noi ci stiamo preparando per la missione finale di metaslag 6 dobbiamo fare l'ultimo livello preparatevi ragazzi perché comincia la battaglia finale via final mission missione finale sarà lunghissima questa missione finale dovrò dividerla a parti fare l'ultimo livello lunghissimo ricorda metaslag 3 ciao Cerchiamo di andare avanti. Sto cominciando a non capirci niente in quest'ultimo livello. Ci sono un sacco di mostri, sia normali che robotici. Ma così io mi stanco a sparare ripetutamente. E' un peccato che non c'è il fuoco automatico. Bene, saliamo su questi veicoli. Queste scavatrici. E si comincia a scendere giù in profondità, scavando. Però bisogna fare molta attenzione. Per scendere giù dovete spostare il tasto direzionale giù. Abbiamo perso la nostra compagna, Eric Asamoto. Sembra scomparso nel nulla. Non si può più usare. Prima avevamo sei personaggi giocabili. Ricordatevi di raccogliere gas. Per far tornare l'energia al vostro veicolo. Stiamo scendendo giù in profondità. Ma non c'è una via d'uscita però. E questo video lo state ancora guardando. Ci sono questi mostriciattoli scavatori. Oh, finalmente sono arrivato giù. Io vi saluto. Finisce qui la prima parte. Vi aspetto nella seconda parte. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.